fonditalia ci troviamo con luca soffera danter selva luchi voglio partire da subito da una cosa ricordiamo l'anno scorso qui è rivenuto non avevi gareggiato ti saresti aspettato un anno dopo di essere qui sinceramente la era ancora credibile poi a marzo quando poi ha fatto le operazioni un po meno perché il tempo di recupero si è allungato tanto tanto in avanti che non era era inaspettato in effetti la non ero tanto convinto adesso sono più che contento di essere di nuovo qua l'anno scorso da atleta e da cliente vips è un po diverso ma preferisco definitivamente sulla pista soddisfatto per quello che è stata fin qui la tua stagione ru holding a parte sia no tanto possiamo iniziare che la stagione partita meglio del previsto perché non pensavo di essere già competitivo e soprattutto il primo la prima gara ero la addirittura per la vittoria che era completamente inaspettato però diciamo che la prima parte è andata molto bene perché tutte le gare nei 25 diciamo adesso la seconda parte un po meno del quello che sapevo fare perché ha fatto un po di fatica poi abbiamo fatto tirato fuori due bellissime stafette gruppo lì c'era purtroppo un black out che ci sta infatti adesso ripartiamo qua come andare salire sul podio con questi giovincelli poi ti confermi il dato se salito sul podio con dieci uomini e quattro donne diverse vuol dire che sono in giro da tanto tempo o no c'è la cosa importante la stafetta come dico sempre che si cresce insieme alla fine questa è proprio una bella conferma delle delle squadre giovani che abbiamo che loro sono cresciuti veramente bene si fa si fanno valere e secondo me una scuola così è da un bel po di tempo che non l'ho più vista competitiva in questa maniera senti cosa significa per te la tappa di ante selva casa questo alla fine mio secondo c'è diciamo la mia seconda casa dove mi alleno quasi tutti i giorni dove passo tanto tempo sia con gli schiroli che anche con la vela sopra e alla fine è speciale cioè sono sempre di contento di tornare vedere tutti i tifosi di amici eccetera e poi sì l'ambiente è qualcosa di speciale qua non lo trovo da nessuna parte per cui penso che sono contenti tutti quanti non solo noi italiani sarà difficile un giorno lontano non lo so dire basta dire addio a tutto questo non penso sono abbastanza sono già abbastanza tranquillo con me stesso perché sono riuscito a raccogliere tante tante soddisfazioni negli ultimi anni diciamo che anche adesso nell'ultimo anno ero il pensiero del del ritiro più vicino del previsto e alla fine mi sono già diciamo un po confrontato no con quella idea la è un po di idee cose potrebbe fare eccetera per cui sono abbastanza tranquillo e poi c'è vado guardo volentieri avanti poi in futuro e allora l'ultima cosa domani short individual aspettative ma soprattutto già dal volto ho capito non ti piace tanto l'idea di fare una short individual birton è nato con la venti per cui non io non vedo il perché dover accorciare diciamo la gara perché cambia tantissimo tutto l'atteggiamento perché la pista molto più facile non ci sono le salite non ci sono altre altri passaggi altri appoggi al poligono anche con il minuto di penalità eccetera però la scelta fatta che è stata fatta così andremo a fare questa gara e cerchiamo a fare il meglio e 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